Torna anche quest'anno Siamo Europa, il festival dedicato alle politiche europee in programma dal 25 al 27 maggio in piazza Santa Maria Maggiore a Trento. L'Europa della quale beneficiano molti trentini, si pensi ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo o agli investimenti del Fondo di Sviluppo Regionale o nell'ambito della politica agricola comunitaria. Ma un'Europa anche debole ed incerta su molti temi come i rapporti internazionali o l'immigrazione. Tra giorni intensi di dibattiti, spettacoli, approfondimenti con interventi interessanti come quelli di Beppe Severnini, venerdì alle 18, del comico Francesco De Carlo, venerdì alle 21 con tutta colpa della Brexit. Sabato sera alle 21 concerto di Ananzi, domenica si chiude alle 18.30 con l'appuntamento verso le elezioni europee. Cittadini parliamone con il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, il presidente dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, Michele Nicoletti e Alessandro Giordani della Commissione Europea. Anche quest'anno siamo Europa, sarà un evento straordinario per noi che ci occupiamo di fondi europei in provincia autonoma di Trento. Tutti sono invitati a partecipare a un evento che ci consentirà nella prima seduta di venerdì a ore 15 di parlare di FES, di Fondo Europeo Sviluppo Regionale, di investimenti finanziati con fondi europei. Parleremo con il vicepresidente e con l'Agenzia della coesione territoriale di Roma. Parleremo con le autorità della Sicilia, dell'Emilia Romagna, di Bolzano di investimenti infrastrutturali in meccatronica, in Industria 4.0, in Green Technologies. Parleremo di posti di lavoro, parleremo di qualità della vita, parleremo di situazioni che impattano sulla vita di tutti. Sul lavoro, sulla qualità delle persone, sulla qualità della vita, sulla qualità delle relazioni, sulla qualità di tutto ciò che sarà da oggi in poi qualcosa che impatterà a 360 gradi sugli aspetti che sono strategici per un'Europa più coesa e più inclusiva.